E apre prospettive di speranza la storia di una mamma che ha dato alla luce un bambino mentre si curava per un tumore. Una bella storia che ci racconta nel servizio Simona Marchetti. È nato sano al Policlinico di Modena il bimbo di una paziente affetta da tumore bilaterale a entrambi i seni. Si accorta di avere un nodulo e la malattia lei è stata rapidamente diagnosticata alla breast unit della struttura sanitaria modenese quando era al quarto mese di gravidanza. Ha portato a termine la gestazione e contemporaneamente ha curato la sua patologia. Un percorso che apre prospettive di speranza ad altre persone nelle sue condizioni. Intanto grande merito alla paziente stessa perché devo dire che veramente si è affidata nella maniera migliore ed ha veramente gestito tutta la sua gravidanza in maniera ottimale. Abbiamo cercato di mettere in atto tutte le terapie più soft possibili. Una cosa che ci ha aiutato molto è stata utilizzare una particolare metodica per individuare i linfonodi sentinella che sono quelli dove teoricamente, anzi praticamente, si possono formare, avere le metastasi, che è stato l'utilizzo di un farmaco, di un colorante vitale che non ha nessuna controindicazione anche e soprattutto durante il parto. Il piccolo è venuto alla luce all'ottavo mese. La madre ha potuto così poi proseguire le cure. Ora aspettano controlli e terapie ma le prospettive sono buone. Era convinta di interrompere la gravidanza. Quello che è successo è stato cercare di offrirle offrirle un'opportunità terapeutica. A consentire questo risultato è stato il lavoro di equip messo in campo dal centro oncologico modenese in collaborazione con l'ostatrice ginecologia che ha seguito la paziente da vicino. La collaborazione è sicuramente importante in quanto si deve organizzare un percorso che sia fatto ad hoc per la paziente. E in questo naturalmente tutte le figure devono collaborare per creare il timing corretto.